Siamo qui, vi lo ricordo, oggi 23, ma in tantissime altre preazze, sia il 23 che il 30 settembre, per firmare, per spegnere i roghi, il coordinamento comitato di fuochi invita la cittadinanza a sostenere la denuncia a querela contro gli amministratori regionali, provinciali e comunali delle province di Napoli e Casetta. Contemporaneamente realizziamo qui al bacchetto della raccolta firme anche altre raccolte di altre associazioni locali per sostenere altri progetti, uno di questi è quello per il museo di Toto a Napoli, per cui potete venire qui, ci sono anche altre associazioni che raccolgono altre firme. Grazie a tutti! Grazie a tutti!